Siamo a Mondo Fitness con Natalia Titova, appena finita la lezione di danza. Com'è andata? Ciao, 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 benissimo, io benissimo, loro spero di sia. Ti sfrutti? Spero, 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 il scopo è questo, fare sudare e... Fa bene? Fa bene, fa bene, perché ormai la danza, poi specialmente l'atino-americano, proprio questo è il posto giusto. Mondo Fitness, la danza è un sport, lo sappiamo, un sport abbastanza faticoso, perciò si sude, si impara a ballare e si diverte. E' anche una filosofia la danza, o è anche oltre uno sport? Oltre lo sport giustamente, è una filosofia, un stato di animo, un pensiero, un... Un'arte. Un'arte, ma dico, una cosa più importante forse è scoprire se stesso, scoprire l'emozione che abbiamo dentro, abbiamo tutti emozioni, solo la vita normale, privata, non spesso ti permette veramente di far uscire fuori, invece adrenalina pura o sulle montagne russe quando stai così o nella danza. Ehm... come hai trovato Mondo Fitness? Ti sei divertita la prima volta che vieni? Non credo. No, non è prima volta, è un po'... mi è piaciuto quel bel casino perché alla fine non capivo da dove viene la mia musica. Cioè, musica là, musica qua, musica qua, qui si bala, lì si suda, lì fanno... Balli un mix. È un mix, è un'energia pura, è proprio un'adrenalina totale. Prossimi impegni? Domani ballando con le stelle, poi guardate questo, bambini, compagni, le scuole di danza, insegnamento e tutto il resto. Ehm... benissimo, allora, grazie di tutto, buona stagione. Mi dispiaciuto perché non sei stato tra i miei... Eh, eh... La danza, dovrei segnarmi pure io a scuola, di tu insegni anche. Certo, come no? E allora devo segnarmi a scuola di danza. Sì, prometti. Ci sarò. Prometti, ok. Grazie. Ciao. 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 Ciao.